motore partito video partito 3 2 1 ragazzi e ragazzi ciao a tutti quanti faccio questo video montato perché l'evento lo richiede siamo qui davanti con la mia canon m200 la più piccola delle mirrorless pensata principalmente per i vlog o comunque per gli auto video perché ha un ottimo schermo girevole ed è molto leggera anche se non è molto buona per fare foto urbane l'ho comprata così perché mi trovavo dei soldi da parte e siamo qui confidato zoom h2n questo piccolo pillolino con cui però ho registrato un cortometraggio di 29 minuti e siamo qui perché siamo qui ragazzi siamo qui perché stamattina accendo il televisore perché io non guardo più televisione da almeno due anni tre anni sono ormai tre anni però l'accendo per guardare le piattaforme i film e youtube vado su youtube dove non sono connesso quindi non ho il mio canale su youtube il mio canale youtube sul televisore e mi spuntano ovviamente i film secondo le cose che tu ricerchi o le cose famose eccetera eccetera boom trailer di indiana jones 5 the dial of destiny dial ragazzi ovviamente in italiano l'abbiamo tradotto la ruota del destino diciamo che il dial o la dial sarebbe il cerchio dell'orologio è un sinonimo di ruota e non è proprio sbagliato dire ruota ma non è neanche propriamente giusto ricorda più che altro il quadro di un orologio il quadro del destino anche perché eccetera eccetera quindi ragazzi senza ulteriore indugio proprio subito ci guardiamo ovviamente poi lo monterò in basso a sinistra credo il trailer di indiana jones mi manca il deserto mi manca il mare e svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno quelli sono giorni passati ormai può darsi oppure no non credo nella magia ma talvolta nella mia vita ho visto delle cose che non riesco a spiegare e ho capito che non è a cosa credi il punto ma con quanta forza ci credi chi è quell'uomo è un lontano parente state indietro estate 2023 allora in america la data è già uscita precisa 30 giugno chiaramente in italia deve arrivare lo dobbiamo doppiare eccetera eccetera non è detto da noi potrebbe anche uscire prima ragazzi non sarebbe la prima volta che un film esce prima in italia per vari motivi di distribuzione di diritti di soldi di marketing perché magari c'è un leggero flickering o sbaglio c'è un leggero flickering non sarebbe la prima volta ragazzi che un film esce prima in europa in europa o anche in italia allora ragazzi leggiamo qualche indicazione non il plot niente storia qualche indicazione ovviamente la regia di james mangold già lo sapevamo a memoria logan ford contro ferrari o le man 66 insomma james mangold sa il fatto suo scritto da jeremy e john butterworth cioè burro che vale sono ovviamente inglesi e sono fratelli ovviamente mai sentiti in vita mia le musiche sono ovviamente di john williams che quest'uomo sembra sia rimasto vivo proprio in tempo per fare indiana johnson 5 visto che ha 90 anni beato lui eccetera 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 allora io non voglio leggere nulla ragazzi proprio non voglio leggere nulla le cose le sappiamo no il development lo sviluppo cominciò già subito dopo il quarto quindi subito nel 2008 però appunto Harrison Forde disse subito nel 2008 io tornerò volentieri nei panni di indiana johnson se non ci mettiamo altri 20 anni per fare il capitolo disse questo nel 2008 un'ottima notizia ragazzi un'ottima notizia il personaggio del figlio ah io ti ringrazio non sarà presente nel quinto capitolo il personaggio stupido di matt williams cioè di shia la beff che già il cognome la dice lunga è una beffa quest'attore vi consiglio di guardare la sua la sua biografia e capirete subito perché è diventato attore non sarà nel quinto film lucas dice il problema del fatto che Ford invecchia non è un problema nonostante l'età è estremamente agile sembra migliore di vent'anni fa spero che Harrison Forde non beva sangue di bambino a colazione come Tom Cruise boh vediamo lucas sperava che Steven Spielberg dirigesse il quinto capitolo ma poi non è andata così Ford dice ogni volta che giriamo un film insieme io e Luca e George decidiamo le cose insieme poi lui va via per lungo tempo e ci lavora poi io quindi Ford Harrison e Steven ci vediamo e mettiamo forma a qualcosa embryonic form a un certo punto George è pronto e tutti e tre ci mettiamo a lavorare capito ah interessante ragazzi Lucas dice stiamo avendo un po' di problemi per Indiana Jones 5 perché io sono nel futuro mentre Steven cioè Spielberg vuole rimanere nel passato è come dargli torto mentre Steven vorrebbe ritornare indietro ai tempi dell'arca perduta no dell'ultima crociata io vorrei spingere il film verso una direzione diversa quindi so penso che ci saranno tensioni Harrison Ford dice che il concept l'idea del quinto film è pazza ma grande nel novembre 2010 perché eravamo ancora nel 2008 Lucas dice no Ford dice stiamo lavorando al progetto nel luglio 2012 quindi dieci anni fa il produttore Frank Marshall anche questo immortale ogni volta che io o da solo o con i miei parenti o con i miei amici vediamo un film degli anni 70 80 e 90 c'è sempre producer Frank Marshall dice che il progetto attualmente non ha uno scrittore e non sono sicuro che faremo veramente un quinto film ma nel 2012 la Disney compra la Lucas film e quindi ragazzi dal 2012 avendo la la Disney comprato la Lucas Indiana Jones diventa della Disney questa mira sfuggita ragazzi questa mira sfuggita nel dicembre 2013 quindi un anno dopo la Walt Disney mette in sicurezza i diritti per un quinto Indiana Jones Lucas decide di focus di concentrarsi sulla saga di Guerre Stellari prima di fare un ipotetico quinto film nel 2015 viene confermato al 100% che la Lucas film sta facendo un altro Indiana Jones nel marzo 2016 la Disney annuncia che il quinto film uscirà a luglio 2019 poi abbiamo visto che non era così Spielberg ci dice nel 2016 non so perché questa precisazione Spielberg ci dice che il personaggio principale cioè Indiana Jones non verrà ucciso nel film meno male grazie Steven dice io non farò mai un film di Indiana Jones senza George Lucas sarebbe una follia ma nei mesi successivi lo stesso Lucas dice che non ha nessun coinvolgimento nel film e Marshall Frank Marshall il produttore dice la vita cambia e va avanti Lucas è andato avanti e niente nel 2017 viene posticipato al 2020 Spielberg era impegnato a fare quella porcata di Ready Player One film di merda e The Post tuttavia confermano abbiamo uno script abbiamo una sceneggiatura e ne siamo contenti e confermano una seconda volta nel 2017 che il personaggio di Shia LaBeff non comparirà se tuttavia i tempi continuavano a dilungarsi perché la sceneggiatura continuava a non venire approvata quindi cambia una cosa lì cambia una cosa là e cominciano a entrare nuovi sceneggiatori uscire quelli vecchi eccetera eccetera Jonathan Kasdan Jonathan Kasdan che se il cognome mi aiuta 43 anni è il figlio di Lorenz Kasdan lo scrittore assieme a Lucas dell'originale Guerre Stellari avete capito ragazzi come funziona papà e figlio figlio e papà quindi Jonathan Kasdan entra come sceneggiatore nel 2018 e la data di rilascio viene posticipata ulteriormente al 2021 interessante questa Kasdan voleva mettere voleva implementare nella sceneggiatura una storia originale grazie al cazzo che però riguardava sempre i nazisti e la leggenda io non la sapevo sta storia ragazzi la leggenda del treno dorato dei nazisti poi questa ce l'andiamo a guardare insieme dopo nell'altra vita per la fine del 2019 addirittura esistevano due versioni dello stesso film ma nessuna di esse fu approvata uno dei tanti sceneggiatori il signor Coop con la O e con la E Coop disse stiamo avendo dei problemi e dei rallentamenti perché ci sono divergenze fra Spielberg Ford e la Disney Ford annuncerà successivamente che la Disney ha nuove idee development nuovi sviluppi per Indiana Jones nella vita e nelle sue relazioni ora mo mi fanno Indiana Jones il ricchione e la chiudiamo qua e risolve parte della sua storia nel febbraio 2020 finalmente è ufficiale Spielberg se ne va via come direttore se ha rotto il cazzo tuttavia rimarrà come produttore la scusa ufficiale di Spielberg è voglio lasciare la serie a nuovi registi con prospettive fresche ve lo dico io se la rottico io il film era stato rispostato indietro alla fine del 2020 ma di nuovo è stato spostato al 2022 e infine ce l'hanno detto a ottobre 2021 nel 2023 aspettano praticamente che Harrison Ford crepi a meno che loro non sanno che non creperà per altri 5-10 anni finalmente viene annunciato James Mangold a maggio del 2020 e si lavora a una nuova sceneggiatura intanto Koepp se ne va assieme a Spielberg e se ne sono andati tutti e due Koepp dice è ora che James Mangold abbia il suo tempo e sia lui stesso a scriversi il film insomma se sono rotti i coglioni tutti quanti Mangold ci consulta con Lucas e Spielberg e chiama appunto i fratelli Butterworth casting nonostante l'età di Ford Marshall e Spielberg hanno detto che non si farà mai un Indiana Jones senza Harrison Ford ed Harrison Ford stesso ha detto io sono Indiana Jones quando io me ne sarò andato lui se ne sarà andato e beh come dagli torto il quarto film la leggenda del teschio del cazzo del regno del teschio di cristallo finisce bene per Indy finisce con il matrimonio con Marion finalmente dopo 35 anni dopo 40 anni tuttavia Ford non vede questo matrimonio come una fine e ci mancherebbe scusate ragazzi questa cosa però ve la leggo invece stavo leggendo senza leggere il casting e leggo gli occhi di Eva non la mi è venuto gli occhi non lo so Lady Eva la signora Eva un film del 1941 e dico cosa cazzo c'entra Lady Eva leggo in alto l'ultimo nome delle persone provinate e accettate nel film una certa Seanette Renee Wilson un'attrice guianese americana ha 32 anni non ho idea di chi cazzo sia ma ha lavorato a Black Panther sconosciuta io non ho idea di chi sia ma James Mangold la compara la paragona all'attrice Barbara Stanwyck famosissima non sto scherzando veramente famosissima nella sua recitazione in signora Eva ora io non so chi sia Seanette Renee Wilson ma veramente era così brava che ti ricordava Barbara Stanwyck o semplicemente perché ce devi mettere l'afroamericana per forza andiamo avanti una cosa straordinaria che abbiamo visto nel trailer ci sarà John Rhys Davis che farà ovviamente Salla e non lo vedevamo dal 1989 come ovviamente ragazzi avete letto avete visto ma quale letto sono fuso come avete visto nel mio video di oltre un anno e un mese fa si ottobre 2021 Frank Marshall ci tiene a precisare che questo Indiana Jones sarà molto internazionale Indiana Jones per quanto sia un personaggio di finzione eppure lui invecchia cioè se invecchia lui il tempo passa quindi pare ragazzi che sarà ambientato nel 1969 proprio nel periodo dell'allunaggio un mese dopo quindi dopo aver finito tutte le riprese dell'Inghilterra si sono spostate in Sicilia leggiamo insieme le riprese siciliane contavano di 600 membri della truppa si dice nearly quindi diciamo poco sotto i 600 membri hanno girato a Siracusa nel famoso orecchio di Dioniso dove io ammetto di non essere mai stato faccio cacare poi si sono spostati nella città di Cefalù nella provincia di Trapani a Castellammare del Golfo e a Marsala e anche qualcosina nel Tempio di Segesta sentitevi questo ragazzi io ve la dico perché è una chicca ma insomma siccome nelle riprese siciliane sono stati avvistati dei soldati romani qualcuno sta speculando che nel film ci saranno i viaggi temporali boh però nel trailer abbiamo visto che ci sono delle riprese vecchie di Indiana Jones giovane rapito dai nazisti quindi che se stanno a inventare i viaggi nel tempo veramente multiverso Ford vabbè e ovviamente hanno girato anche in Marocco perché si gira sempre in Marocco piccola chicca oscura il 4 novembre un operatore macchina è stato trovato morto nella sua camera d'albergo in Marocco tuttavia la Disney ci tiene a precisare che la sua morte non è diciamo causa della produzione ma meno male speriamo ah vabbè qua l'hanno detto Ford è stato de de invecchiato per alcune scene appunto risalenti al 1944 ma l'abbiamo visto nel trailer ragazzi Ford ha commentato che vedersi de invecchiato lo ha spuked lo ha spaventato un pochetto mamma mia nonostante Spielberg si è visto contrario a de invecchiare Ford Mangold ha invece detto che sarà una parte importante del film urca la murca ho come l'impressione ragazzi che il fatto di farci vedere due Harrison Ford e di chiamarlo la ruota del destino messa messai che forse qualcosa l'ho capita qualcosa l'ho capita e ovviamente le musiche di John Williams va bene ragazzi ora mi fermo ora non parlo più ah mi dice qua il futuro della serie ragazzi il futuro dovete sperare che Harrison Ford arrivi vivo alla giugno dai non rompete il cazzo col futuro è la Disney è la Disney che si interroga sul futuro dell'universo Ford ma non rompere i coglioni satanisti assetati di soldi da Vespertili è tutto ragazzi un bacetto tutti al cinema a giugno ragazzi ciao mannega